Desiderate essere padroni indiscussi del terreno di gioco? State cercando un deck che abbia il giusto rapporto tra costo e resa? Quale sarà la soluzione ideale che risponderà a tali domande in questo quarto capitolo del TCG di One Piece? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande? Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. La battaglia nel corrida colisium è iniziata e in questo OP04 molti sono già stati leader che hanno imposto il loro punto saldo sul meta. Ma tra tutti una in particolare si è fatta notare combattendo letteralmente a spada tratta per farsi valere a suon difendenti imponendosi sui tavoli da gioco come top tier presentandosi in diverse versioni tutte ugualmente pericolose. Sto parlando del mazzo di Rebecca. La gladiatrice ha fatto parlare di sé per il suo stile di gioco aggressivo e all'apparenza semplice da utilizzare, il che è anche vero ma sarà necessario tenere a mente alcune dinamiche fondamentali per far rendere nel migliore dei modi questo deck. Oggi quindi analizzeremo alcune delle meccaniche principali di questo mazzo che se utilizzate al meglio vi permetteranno di mantenere il controllo egemonico del campo di battaglia vietando all'avversario qualsivoglia possibilità di mantenere sul terreno i propri character. Prima di continuare se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale così crescendo potrà portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite e molto ancora e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Rebecca Blu Nero. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader che con i suoi 5000 punti forza nella vostra fase principale una sola volta per turno vi permetterà se possiederete se carte o meno in vostro possesso spendendo un singolo don di visionare le prime due dalla cima del deck rivelandone una tra esse con tratto dress rosa da aggiungere alla mano posizionando la restante nella pila degli scarti. In più Rebecca possiederà cinque vite a supporto, atipicità per un bicolore, ma il tutto verrà controbilanciato con l'impossibilità di questo leader di poter sferrare un attacco. La decklist in questione sarà un concentrato di controllo board allo stato puro e vedrà il quartetto di Giaz, Leo, Rebecca, Ideo, Bartolomeo, Tassigi, Kiros, Orlumbus, Sabo e Luffy per il settore character con altrettante copie di Gangam, King Kong Gun e il tris di 3000 Sword per il lato event e l'ultimo trio di corrida Collisium per gli stage che chiuderanno questa profile. Le carte cardine di questo mazzo saranno procedendo in ordine di tipologia per i personaggi Rebecca, Kiros, Orlumbus, Sabo e Luffy, per gli event sia il Gangam che le 3000 e per gli stage ovviamente le corrida. La giocata comandata che muoverà nelle prime fasi questo deck sarà turno 1 effetto leader, turno 2 corrida, effetto leader Rebecca. Ciò massimizzerà la pescata e la ricerca di elementi utilissimi per lo svolgimento della strategia complessiva del mazzo che vedrà un aumento delle prestazioni grazie alla presenza di Collisium già dalle primissime fasi di gioco. Altra sinergia da tenere bene a mente sarà quella tra Orlumbus e Kiros con l'aiuto di Sabo quando sarà possibile. Infatti attivando l'effetto del membro della flotta di Yontamaria andrete a ridurre di 4 il costo di un carattere avversario, mettendo KO, un vostro alleato, scartando subito dopo due carte dalla cima del mazzo. Ebbene, designando Kiros potrete esaurire il leader o la corrida sotto il vostro controllo per salvare la vita al re di Dress Rossa mantenendo una presenza a bordo non da poco. Sabo invece, con la sua abilità, renderà immune ogni personaggio alleato dalla distruzione da effetto proveniente da fonti esterne e quindi potrete utilizzare tranquillamente lo stesso Orlumbus senza preoccuparvi di falcidiare risorse che potranno tornarvi utili durante le fasi inoltrate di un match. Tenete a mente una cosa. Due Orlumbus, soprattutto con altri Kiros o Leo a seguito, potranno rappresentare una vera e propria spina nel fianco per l'avversario, abbattendo costi 8 come se nulla fosse. Se poi avrete anche un terzo Orlumbus in campo, vi lascio immaginare come andrà a finire per qualsiasi personaggio rivale, quindi proteggete al massimo questi elementi se vorrete ogni turno veder saltare teste. Infine, i luffi a costo 7 rappresenteranno un'arma fondamentale a vostra disposizione, dato che potendo attaccare anche i character pronti, andranno a togliere di mezzo degli eventuali blocker, fungendo da apripista per ulteriori assalti. Cappello di paglia inoltre potrà attaccare nuovamente grazie all'innesco del suo effetto, rappresentando un serio pericolo non appena sarà entrato in campo per le vite rivali. Quindi, dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che la muovono, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Di base sarà semplice, ma bisognerà avere a mente, come già accennato, alcuni concetti basilari che risulteranno essenziali per far girare al meglio il mazzo. Uno tra essi sarà, di sicuro, Orlumbus su Kiros, Sabo che allungherà la permanenza di tutti sul terreno, e Luffy che con l'aiuto di Corrida potrà attaccare chiunque. Altra cosa da tenere bene a mente sarà, con Corrida fornirete Rush ai vostri character solo se l'attacco verrà diretto contro un personaggio avversario, quindi, a parte i Luffy, tutti gli altri non potranno ingaggiare battaglia se non sarà possibile farlo. Per la fase offensiva ci saranno molti personaggi che assolveranno allo scopo, vedasi già menzionati Luffy, Orlumbus all'occorrenza, Kiros e Sabo se vi sarà possibile. Per quella difensiva invece possiederete gli Hideo, gli stessi Sabo e i Bartolomeo, che potranno assolvere sia il ruolo di Muro che di Counter più 2000. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno, di certo, Rebecca, Corrida, un 3000 Sword, Orlumbus e Sabo. Se sarà così potrete procedere tranquilli, altrimenti mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup, se ve la giocherete bene non temerete confronti, ma state attenti come sempre agli Zoro, che non tendono a morire, ai Crocodile che possono privarvi del motore di rimozione che a voi servirà come l'aria, e ai Luffy neri, che stanno piano piano iniziando a spuntare qui e là nel meta. Per la win condition, quella che ho trovato più sbrigativa è stata Luffy con Gangnam più Treadon per rafforzare il tutto, sperando che l'avversario non riesca a parare un assalto con double attack da 16k, inflitto per due volte. Infatti, se avrete soddisfatto appieno la condizione secondaria dell'evento, in un singolo turno potrete far prendere all'avversario dalla pila delle vite ben quattro carte, giostrandovi come meglio crederete i turni successivi. Invece, gli elementi obbligatori che non potrete assolutamente sostituire con nessun'altra carta saranno, ovviamente, gli onnipresenti Luffy, i Sabo, le Corrida, le Rebecca, i Kiros, gli Orlumbus, i Gun e le Sword. Per tutto il resto potrete giostrarvela come meglio crederete, modificando il deck a seconda del vostro stile di gioco. Infine, per la fase counter, avrete a disposizione solo i più 2000 che vedranno Giaz, Bartolomeo e Tassigi rappresentare una seconda muraglia difensiva in assenza di blocker, o se non vorrete impiegarli in battaglia. Prima di concludere, volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Rebecca parte per prima, ma per seconda non è che soffrirà più di tanto, anche se possedendo diversi drop dispari, per una curva di giocata migliore, iniziare risulterà la scelta ideale. In più non perderete mai il match per deck out, perché grazie all'abilità di ripristino di Luffy potrete riposizionare ben 7 carte dalla pila degli scarti in fondo al deck, riciclando di continuo forze che, in altri casi, sarebbero andate perdute, incrinando irreversibilmente la dinamica del mazzo. Ma non sarà assolutamente un male avere molte carte nel cimitero, dato che elementi come Gangam, King Kong Gun, Barrier o Trueno Bastardo interagiranno al massimo se avrete almeno 15 elementi nella suddetta zona del campo, scatenando sinergie che metteranno in seria difficoltà le difese rivali. E a proposito di queste ultime, la versione che vi ho proposto è quella a mio parere più aggressiva, che si concentra per la maggiore sul controllo board spietato e cinico, senza dare all'avversario la possibilità di apparecchiare e di conseguenza difendersi con gli elementi a sua disposizione. Ma se vorrete rivedere questa lista, vi consiglio di prendere in considerazione, oltre agli event Barrier e Trueno Bastardo, anche i Red Rock. Testate e scoprite da voi quale versione si adatterà maggiormente alle vostre corde. Concludendo, Rebecca sarà un leader divertente e soprattutto economico, infatti rappresenterà la scelta migliore se vorrete un mazzo competitivo, senza spendere cifre esorbitanti in questo P04. Per il resto, se amate l'archetipo in questione, senza ombra di dubbio, la bellezza di Dress Rossa farà al caso vostro, fornendovi la possibilità di mettere a ferro e fuoco ogni singolo avversario che vi ritroverete davanti durante i combattimenti nella corrida. E voi avete già incontrato questo deck durante i vari tornei locali? E se sì, come ve la siete cavata? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei DCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.